Basta ragazzi, comunque non ti preoccupate, punta per l'area dietro la figlia, la prima e abbiamo una ragazza, chi deve essere, Arianna, Arianna che partita a carbone, andiamo a vedere la piazza Notcia, ecco qua, ragazza Terine è bravissimo, mamma se guarda, bravo, bravo, grazie. grazie 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 vai Pablo dai Grazie a tutti.